ciao ragazzi qui flash 81 e la cuoca pasticciona a mezza sonnata per aprire questo pacchettino ma questo è un altro regalo ragazzi come natale si e qui c'è anche il regalo del compleanno suo si che ringraziamo sempre chi ce l'ha fatto diamine si ringrazia ma non si può dire chi è e chi c'ha chiesto detto eh ma non sistemate la casa l'unica cosa si può dire è che ci sono due cose dell'academia tutto quello che vorrei anche dire è che se dite pensate è questa dovete raccontare tutte e poi comprate le cose in più questa non l'abbiamo comprata ce l'ha regalata appunto dai ora cambio inquadratura e guardiamo cosa c'è e i regali che sempre ve li accetti ovvio eccomi qua si apre una si apre dove si tira allora questa non mi cose città che è come questi facevano quando si andava a scuola però è già fatta faremo una partita anche a questo poi una sola si straccia tutti i giorni questo che lo devo montare che bello questo è da montare è tipo model kit ragazzi e poi questo al pacco del pacco ragazzi i gatti saranno contenti per questa scatolola il pacco del pacco contiene ah non posso farlo io no faccio io la borsa tanto che questo vuoi vedere come lo sistemeremo lo organizzeremo allora contiene varie eeeh cosini di plastica che sono tutte di plastica si sono compilissime perchè uno mette la eeeh noi lo rompi come quella la come quella la chiamavamo di timo amore oh piano piano leva ti metti sotto l'acqua eeeh l'altra volta c'è più sto comodo sai che l'altra volta il mio magliettino ha fatto causare il sale eeeh Naturalmente lavato, li metterci in lago padello Ma non puoi vedere questo di un altro colore? Eh? Aspetta Ma non c'è qui giù No, no, su questo No, quel colore... C'è la roba dentro, no? Vedi? Cosa lo vedi? No, no, questa cosa qui, il bordo Ma ti ne manca uno, non puoi dire Cioè ce ne hai uno in giù, non puoi vedere quello Si, 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 proprio qua E, su questo signor là Ci sono, fate vabbè, che misurini che servono Per misurare la roba e metticela dentro Però, c'è anche, queste le etichette Prendendo la pesca, cosa ci si sta mettendo Tipo sale grosso, sale, caffè, zucchero, pasta, cereali Quale è questa qui? Non lo so, marca Verlino Storan, il contenitore, il contenitore di Storan Qui, ah, Verlino, ci dovrebbe essere, penso, anche un libro di ricette No Ma non c'è solo sta roba in occhi Fai vedere che ci sono delle altre Le avevo un po' delle altre Sì, non le aspettavo più grandi, eh Perché queste qui erano, erano piccoli per la pasta Questa è tutta roba Mi metto a registrare subito dopo aver spiegato la telecamera adesso E' questa E' questa E' questa E' questa Guarda, l'apro, l'apro Faccio una cosa che non dovrebbe L'apro ora qui con quello, in questo modo Poi dopo lo monto Con voi, lo monti con loro Lo monto con loro, ma il video Ecco Cioè, se queste ragazze Questo qua E' solo ormoso Ed è grosso, se immaginate quando Sarà tutto completo Qui ci sono i pezzi Qui ci sono cose Così Si saluta e si monta Io monto e lei no Io devo lavare i pezzi per farti vedere Via Lo ingerziamo Chi ci ha fatto regalo Allora Ricambio in quadratura un'altra volta Lascio Grazie tanto per il regalo L'ho apprezzato Non vedo il loro I regali I regali I regali E questo ti straccio eh Si si Di questo, ti straccio Cosa? Perché non ci giochi? O perché mi stracci? Perché mi stracci tu? E poi ma se vedete c'è la basetta Che posso lasciare a sospeso Madonna bella Ciao ragazzi Ciao 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 Ma staccio Ma staccio Ma staccio Ma staccio Staccio Un'altra Un'altra